Ciao, benvenuti in questa splendida location! Ma quale location? Questa è casa di Zife Tora! Ci piace! Siamo qui per dirvi che sul canale Frenky Passer & Friend uscirà a breve un nuovo format e si chiamerà In Cucina con Venticello! Quindi, continuate a seguire il canale Frenky Passer & Friend Ci vediamo! Un ciao da Alessandro Borghese E da Venticello!